Quest'anno l'Apito ha pensato a tre eventi fondamentalmente che si verificheranno, si presenteranno nella settimana che ricorda proprio la morte di Don Paolo. Lui è morto il 9 ottobre a 54 anni per un tumore al cervello. Cominciamo il primo evento, si svolgerà il 4 ottobre, l'ex chiesa di Santa Maria del Gonfalone alle ore 21, dove ospiteremo padre Marcello Barros che è un ecoteologo brasiliano, un monaco benedettino, e appunto ci parlerà proprio del dono della profezia da Helder Camara a Papa Francesco. Un secondo evento, presenteremo la conclusione di un progetto letterario che è nato a metà del 2018 e quindi da questo ne è scaturito un libro che ha il titolo Un continuo essere alunni, un'esperienza pedagogica e comunitaria senza confini, che dove il racconto dell'esperienza in Brasile di Don Paolo Tinucci come educatore e come missionario è diventato il punto di partenza per una riflessione sull'insegnamento e sull'educazione molto al giorno d'oggi. Questo evento, dicevo, si svolgerà l'11 ottobre, venerdì 11 ottobre alle ore 21 presso la Sala Sant'Arcangelo. Ci sarà poi una seconda presentazione invece riservata agli insegnanti delle scuole medie, del territorio fanese e dei comuni limitrofi. Questo secondo evento sarà il 18 ottobre, il venerdì successivo, alle ore 17 alla Sala Verdi. Un ultimo evento invece il sabato 12 ottobre alle ore 16 e 30 presso la Chiesa del Suffragio, Sua Eccellenza Giovanni Tonucci, che è il fratello di Paolo, presenterà un nuovo sito, un sito aggiornato esclusivamente dedicato a Paolo, dove sono inseriti tutti i suoi scritti, ma soprattutto molto interessanti anche le sue lettere agli amici e quelle non ufficiali insomma, che arrivate. E quindi alle 16 e 30 presenterà questo nuovo sito, a cui seguirà poi alle 18 la celebrazione eucaristica che tutti gli anni lui celebra in memoria di Don Paolo, agli 18 al Duomo.